Sono 3 milioni e 600 mila euro che andranno agli ambiti che progetteranno al meglio questi fondi, 3 milioni e 6 per combattere l'esclusione sociale, 3 milioni e 6 quindi per 8 progetti da 450 mila euro. Questo avviso di fatto è rivolto ai cittadini che sono esclusi per diversi motivi dal circuito lavorativo e quindi disoccupati di lungo termine, disabili, ex detenuti, ex tossicodipendenti, donne vittime di violenza, insomma una serie di cittadini davvero oggettivamente esclusi, cittadini in povertà, in stato di povertà. Questi cittadini verranno sostenuti accompagnati in un percorso di occupabilità tramite un tirocinio di un anno all'interno delle aziende del tessuto imprenditoriale della propria provincia o del proprio comune. Abbiamo messo però una percentuale, i più di 500 cittadini che poi usufruiranno di questo tirocinio dovranno essere inseriti, il 60% dei 500 cittadini dovrà essere inserito nel circuito lavorativo privato, solamente il 40% nel circuito delle amministrazioni pubbliche. Perché? Perché solamente il privato poi consentirà eventualmente di avere un rapporto di lavoro dopo il tirocinio perché nelle amministrazioni pubbliche è impossibile, come dire, se non grazie a concorsi. Quindi abbiamo spinto, spingeremo in questo modo, gli ambiti a cercare imprenditori privati per far sì che questo progetto possa funzionare. Oggi, primo agosto, esce l'avviso, il termine ultimo per presentare le domande sarà il 16 ottobre. Abbiamo dato un tempo importante e congruo.